MotoGP, Marc Marquez, l'interesse di Honda per lo siluppo. Cari appassionati di sport su due ruote, benvenuti a un nuovo episodio esplosivo di The Sport News. Oggi ci tuffiamo nel cuore palpitante della MotoGP, dove il grande Marc Marquez CI tiene sospesi tra l'incertezza e la certezza. L'ultimo fine settimana a Misano è stato tutto tranne che tranquillo. Marquez ha tenuto il paddo che i suoi fan sulle spine, alimentando il mistero attorno al suo futuro nella MotoGP. Ma c'è una cosa chiara come il sole. Il mondo delle due ruote è più preoccupato per il futuro del numero 93 che per chi vincerà in pista. Lo stesso Marquez ha ammesso candidamente questa strategia lunedì scorso, parlando con i giornalisti a Marco Simoncelli. Ha dichiarato «Sto tenendo tutti sulle spine il più a lungo possibile». Si riferisce alla data in cui svelerà il suo team per la prossima stagione. Ora, sebbene abbia giocato a nascondino con tre possibili opzioni, è chiaro che le sue reali alternative sono due. Rimanere fedele alla Honda fino al 2024 o unirsi a Gresini, gareggiando al fianco del fratello Alex su una Ducati. Qualunque sia la sua scelta, la sua performance a Misano è parte di una strategia per mantenere i riflettori puntati su di lui, mentre la sua classifica nel Mondiale si trova in diciannovesima posizione a sole otto gare dalla fine della stagione. Nonostante le vittorie di Horce Martin e l'eroica prestazione di Pecco Bagnaia, il vero fulcro delle discussioni ruota attorno a una domanda «Cosa farà Mark?». Questo ci fa capire quanto la MotoGP abbia bisogno del campione per brillare. Ma cosa pensano i team? Gresini è in silenzio e questo non fa altro che aumentare la speculazione intorno al suo futuro. Anche per loro, avere un pilota del calibro di Marquez è un sogno da realizzare. Se Marquez optasse per rimanere con la Honda, ci sono opzioni valide per rafforzare la squadra. Ma Ducati non è così restia come sembra. Gigi Dalligna, il direttore generale, sarebbe curioso di vedere cosa potrebbe fare Marquez su una Desmo 16. La lotta tra Bagnaia ed Enea Bastianini nel 2022 ha dimostrato che a Dalligna non importa chi vince, ma solo che sia uno dei suoi. E ragazzi, c'è un'altra carta in gioco. Alberto Puig, il manager di HRC, è sulle tracce di Dalligna. Che la Honda voglia affidargli la sua salvezza? Se avesse successo, Dalligna diventerebbe il guru della MotoGP, come Adrian Newey, in Formula 1. Rimanere con Ducati o salvare la Honda? Entrambe le strade portano a gloria i titoli. Questo non sarà un processo rapido, ma potrebbe essere epico quanto l'ascesa di Ducati nel 2014. In ogni caso, sembra che la Honda stia cambiando direzione. La presenza di Kuwata e Kokubu sta diventando sempre meno rilevante. Ecco la cosa interessante. La preferenza di Marquez e Puig per Dalligna sembra essere il punto di svolta. La sfida di salvare la Honda potrebbe essere irresistibile per lui. In Ducati sanno che Gigi ama vincere, e ora lo sta facendo. Questa decisione potrebbe scuotere il mondo della MotoGP come un terremoto. Ragazzi, siamo al bivio e non vediamo l'ora di leggere i vostri commenti su questa tormentata saga della MotoGP. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale The Sport News per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie sportive più scottanti. Ci vediamo alla prossima curva! Grazie a tutti!